Il voto complessivo di questo articolo di Sony è di 8.8 su 10. Online, risulta essere il più venduto. I suoi punti di forza sono. Durata della batteria. Zoom. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Luminosità. Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video. La votazione finale assegnata a questo prodotto di Sony è di 9 voti su 10. In questa selezione risulta essere il migliore. Le sue qualità sono. Durata della batteria. Impermeabile. Controllo remoto. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo, clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Il voto finale aggiudicato da questo articolo di Sony è di 8.8 voti su 10. Risulta essere al momento il prodotto più regalato. I suoi pregi sono. Facile da usare. Qualità dell'immagine. Durata della batteria. Zoom. Durabilità. Se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo, clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. La valutazione finale assegnata a questo articolo di Sony è di 8.6 voti su un totale di 10. Risulta essere la nostra scelta migliore. Le sue funzionalità sono. Zoom. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Comodo. Durata della batteria. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Sony. Con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 8.6 su 10. È il più esclusivo di questa selezione. Viene molto apprezzato per queste caratteristiche. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Luminosità. Zoom. Il prezzo di questo articolo, insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video.